Quello che resta dell'Arca dei Ricordi, ormai siamo nella fase della decostruzione, maestro Gaetano Maschio, Forio ha vinto con la rappresentazione di questa barca, è stata una grandissima serata per voi? Certamente, noi siamo veramente soddisfattissimi, in questo momento nel noi io includo veramente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della barca all'Arca dei Ricordi che senza dubbio è stata un'esperienza indimenticabile. Una grande squadra, una squadra coesa che insieme ha lavorato in questi giorni di intensa applicazione per rendere al meglio quello che poi è stato ritenuto il progetto vincitore della 87esima edizione della Festa Ammara agli Scogli di Sant'Anna. Naturalmente il team ha sviluppato quello che era un intendimento iniziale, cercare di colpire l'attenzione nelle varie sfaccettature di quello che ci veniva richiesto. Se ben ricordi, quando abbiamo presentato la barca ci siamo portati verso la zattera piccolina, quella è stata l'emblematica anteprima perché ero convinto che l'omaggio al turismo visto nel simbolo che è i prodromi del turismo della motoretta avrebbe senz'altro anche suscitato grandi emozioni e così è stato. Io, come ho sottolineato in questi giorni, in maniera molto precisa ed anche a titolo di doverosa esemplificazione perché la barca di Sant'Anna deve essere innanzitutto un'emozione. Questa emozione nasce, se vogliamo essere ufficiali, da un regolamento nel quale viene dato un tema. Nel regolamento di quest'anno il tema ci veniva dato all'articolo 3, per essere proprio precisi. L'acqua, il tema dell'acqua, poteva essere sviscerato in uno o più punti, ci diceva il regolamento, e venivano indicati in una serie di specificazioni. Ed io, da quelle specificazioni, ho inteso trarre l'arca dei ricordi. Io dico grazie, dico grazie per le giornate che abbiamo trascorso insieme, grazie per il sole che ci ha bruciati fino alle più profondi strade della pelle, ma ci ha dato poi questo stare insieme il gusto dell'amicizia, del confronto, del fare giorno e notte, perché qui in questa baia ha fatto giorno insieme, ha fatto notte insieme, e dal 25 al 27 notte e giorno si sono unite, perché non ci siamo mai allontanati da questo posto. lunedì sera alle 21 andremo al soccorso, staremo ancora un po' insieme, ci sarà la possibilità di fare le foto all'ombra della Statua della Libertà e sulla mitica motoretta che abbiamo visto tutti, quindi potrete fotografarla. Il sindaco consegnerà a tutto il gruppo il trofeo, il tangibile segno di questa indimenticabile vittoria, il premio Funiciello, il premio Domenico Di Meglio, quindi la summa delle tre onorificenze che abbiamo preso e spero staremo veramente insieme.